Ciao a tutti, squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italia Sharks e già sto laggando, yeah! No, sto scherzando, vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Crashland! Ragazzi, 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 ragazzi! Che cosa facciamo? Allora, a proposito, nello scorso episodio abbiamo terminato con la casa che non era finita e io l'ho finita off camera, è inutile che ragazzi vi faccio vedere l'effetto finale, cavolo, le torce! Oddio, le torce! Allora, 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 se non sbaglio qui in fondo è tutto ok, sì, però dobbiamo metterle dentro, in pratica, vedete? Ho messo della stone brick per terra, ho messo due entrate, vediamo, facciamo così, vediamo come viene Questo, come vedete, è già carico e questi si stanno caricando man mano e, ragazzi, non abbiamo neanche usato tutto il carbone che c'era Fantastico! C'è la produzione di energia e tantissima Pian piano l'amplieremo, magari la faremo a più piani, per il momento la lasciamo così Eh, questo è quello che abbiamo fatto nello scorso episodio, avevo promesso che l'avrei finito off camera Ma, vediamo un po' quello che andiamo a fare in questo episodio Intanto ne approfitto per buttare giù quest'albero perché mi serve tanta gomma, ragazzi Mi serve la gomma per, eh, per i macchinari, eh, per dei macchinari che devo fare, devo assolutamente fare tanta tanta gomma In questo episodio andiamo a fare una versione un po' rudimentale, poco automatizzata, del mob spawner Quindi, oh, però dammi un alberello, che cavolo Oh, ma io dovrei, ecco c'è il crook Eh no, usiamo il crook, scusa Eh, 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 aumentiamo la percentuale di drop Forza, forza, però dammelo l'albero Eccolo, mi ha dato l'albero, me l'ha dato, sì L'ho visto cadere, giuro, ragazzi, giuro L'ho visto, dov'è? Eccolo, due GG, GG, un GG alberi Vabbè Andiamo a se mi da il terzo Per sbaglio, no? Vabbè E intanto lo facciamo crescere Allora, qua che cosa ho combinato? Qui ho creato un'altra casa, stile quella Anche se l'entrata è un pochino più piccola E non è proprio proprio centrata Perché qua abbiamo un, due, tre, quattro e cinque Un, due, tre, quattro Vabbè Va bene, ragazzi Non fa niente Nessun problema Però, qua, sicuramente Dobbiamo metterci delle torce Perché già I fiddle I fiddle I fiddle I fiddle I fiddle Quei cosi rompiscatole piccolini Che strisciano Hanno iniziato a spanare, insomma Ok Che cosa andiamo a fare in questa casa? In questa casa Intanto ho bisogno delle slab Sì Perché? Perché dobbiamo Anzi, no Che slab? Che slab? Potremmo fare una roba del genere Allora, vediamo un po' Tu via Ecco Vediamo così Qui è tutto però Eh, vedete? No, non vanno bene queste Devo fare delle scalette normali Perché così Se ho bisogno di salire al piano di sopra Lo posso fare Anche se cercherò di non salirci Perché sopra verrà una mega farm Per far spanare i mobbazzi I mobbazzi Anzi, vi dico di più, raga Io non metto nessun tipo Oh, mi devo svuotare l'inventario Non metto nessun tipo di scale E vi farei Iniziamo a produrre E ci servono pochissimi macchinari Per poter fare il piano di sopra E renderlo farm Allora, allora, allora Fatemi svuotare un po' l'inventario Questo non lo posso lasciare qua Ma lo lascio qua Questo lo mettiamo qui Poi, poi questo va via Poi questo pure Questo va qua dentro E questo qui Questa roba la mettiamo qua Tu qua stai Oddio Eh, devo riempirlo Vabbè, intanto mettiamoci della dust Che ci serve sempre Vai, dustizzati Andiamo velocissimamente A prendere la branch Per spostare Così Fum, fum Ok No Così E così Bene E continuiamo col produrre la dust Poi metterò E farò l'altra gravel Inutile che la faccio in camera Poi Fatemi andare a depositare Sta roba qui Blast protection Questo Non voglio Quelli che ho Questi li depositiamo Per il momento Qui dentro Ah, la charging station Poi ragazzi Non l'abbiamo più utilizzata Vabbè Visto che sto Visto che sto Mi crafto No, le scalette Abbiamo detto Che non ce ne frega niente Ok, dovremo essere pronti Ho della legna Sì Principalmente mi servirà cobblestone E andiamo a produrre Questa roba qua Allora Allora Qua si sono da smaciullare No ragazzi Devo prima Vedere C'era una questa Se non erro Che mi faceva Mi dava Vediamo un po' Non è qua Vediamo un po' È una di queste quest Quest e queste qui Per il momento Lasciamo perdere Insomma ragazzi Quelli di cui abbiamo bisogno Sono quella specie di Rotaie Come si chiamano? Come si chiamano Quelle rotaie? Non sono dei nastri trasportatori Li trovo eh Li trovo Non mi ricordo manco la mod So che ci stanno Giuro Li andiamo a trovare subito Un po' di pazienza E li troviamo Eccoli Convei belt Per farli Ok Il conveyor belt classico Che serve praticamente Rubber La rubber bar E la redstone Allora Andiamo a bruciare La rubber bar Si brucia Si ottiene Bruciando sta roba qua Quindi io ce la metto qui dentro Ok Facciamo così Metticene un altro Ok benissimo Qua il carbone È già tanto Allora Quindi bruciando sta roba Otteniamo Vedete La rubber bar Appena ne abbiamo tre Io voglio vedere Quanti me ne crafta Con un lingotto di ferro E uno di questi Solo che mi conviene Andare a dormire In questo modo Facendo questa roba Facendo uno spike Che sarebbero Tipo delle trappole Ragazzi I mob Quando cadono Da su Perché vengono dirottati Dal Dal nastro trasportatore Poi vanno a morire E noi Asportiamo tutto Con il baco Mopper E quindi poi Andiamo a riempire Le chest Allora Allora Dammi uno di questi Intanto Ci metto sta roba qua Proviamo Vediamo quanti me ne vengono Speriamo tanti Perché non ho tantissimo Né gomma Né ferro 16 Benissimo Sì Me ne vengono tanti Comperavo Allora Poi facciamo anche uno spike L'iron spike Esatto Ci servono 3 iron sword 3 Ok Quindi 2 4 6 Più 3 9 E 9 18 18 iron Ok 14 17 18 Facciamo le 3 iron sword 1 2 3 Bene 1 2 2 E 3 Poi facciamo Il Il cappero qua Il blocco Ok E siamo pronti A craftare anche lo spike E ora vi faccio vedere Come moriranno i mob Ah me ne ha craftati 4 addirittura Vabbè Non me ne servono 4 Oh dammila Che cavolo Poi mi serve anche un vacuum hopper Vacuum Eh no Vacuum Ecco qua Con un hopper Un obsidiano Un enderpearl Quindi craftiamo l'hopper Per fare l'hopper Mi servono 5 pezzi di ferro Allora La metà di questi Bene Meno male che il ferro L'abbiamo farmato Raga Allora Fammi una cest Fammi una cest Fammi una cest Fammi Fammi Tutte le cest Fammi tutte le cest Ok Poi mi serve Vedete ho formato Un enderpearl Ho avuto la fortuna Di poterlo fare Poi mi servirebbe Ragazzi Eh Questo acido Allora facciamo così Poi ci andiamo a prendere La lava Oh E qua dentro La cobblestone Ma mettici pure questo No Che è Questo Qua ci mettiamo Una cosa così Oh Non mi Non mi Non mi inquina l'acido Beh Ok Questo lo lasciamo qua Chi se ne frega Mi ha tolto la torcia Ok Ora moriamo tutti Bene 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 Non mori più nessuno No Tu riempiti Ok Oh Beh Bene 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 Molto bene Ok Quindi Abbiamo la nostra acidiana Facciamo il vacuum hopper Dovremmo aver terminato Con i materiali No Facciamo un altro paio di cest Per il momento Ne facciamo solo due Poi vediamo Mettiamo magari dei bar E una cosa del genere E mi servono Dei tubi Dei tubi Eh Item duct Me ne servono di più L'item duct Come se fa Era di qua Perché mi serve Il lead Il lead E E E Che altro Prendiamo intanto 5 di ferro Che dobbiamo fare Con la roba là Poi Item duct Item Item duct Ok Item duct Opaco Led E tin Allora Facciamo No Facciamo di meno 1 2 3 Led E dove sta il tin 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 Rin tin tin Così po' tin abbiamo Porca miseria Vabbè Per cominciare Basta Ok Intanto Devo fare Devo farmare un po' Off camera ragazzi Motola L'albero gigante Anche quello mi fa Allora Tu Tu Dammi sta roba Bene Allora Mi serve redstone Dammela qua Bene Qua Fai così E fai Cioè ragazzi Se lo volevo fare apposta Non ci credo Ok Bene Penso che siano sufficienti Queste le depositiamo qua E facciamo anche un po' Di rintintin Cavallini Bene Sì Una decina di item Da che sono sufficienti Andiamo a prenderci La chiave inglese E andiamo Mi servono anche Un paio di stack Di cobblestone Un Due Tre Quattro Uno lo mettiamo qua dentro Oh 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 Sì Via Andiamo Andiamo Siamo pronti Siamo pronti Chi ci frega Mi serve almeno Un altro stack Perché vi faccio vedere Come si fa La 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 Che è sta roba? I peppercorn Ma si mangiano? E Vabbè Vabbè Come lo butta qua Oh ma Come è Junglewood Ah no Vabbè Ma Ma che cavolo è? Alvest Grav Non so che siano Ragazzi voi sapete che cosa sono Questi peppercorn Poi devo vedere un po' l'usage Allora Allora datemi La cobblestone A me sta finendo pure l'acqua Questa cosa non mi piace Ma va bene Lo facciamo alto 3 Anzi alto 4 direi Perché ci stanno Non solo i mob giganti Ma ci stanno anche gli enderman E io vorrei poter prendere Chiunque Così farmiamo anche l'enderpearl Gli unici che non riusciremo a prendere Ragazzi ve lo dico Sono i ragni Vabbè è quello Non ci possiamo fare niente Perché i ragni No no forse sì Forse ce la facciamo a prendere anche i ragni Forse sì L'ho detto una cavolata Allora Allora Ora faccio questa roba qua Lo alzo di 4 E ci faccio un soffitto Ragazzi non sto facendo Delle cose stratosferiche L'importante è che siano carine Con un po' di fantasia Anche se grezze ruzzulane Anche perché ragazzi Non è che abbiamo tutti questi materiali strani Cioè Allora dammi qua Quindi 15 18 Sto per morire Sto per morire Perché ho bisogno Ho bisogno di acqua E mo se la andiamo a prendere subito Perché se no Se no Moramo Allora Oh vai Vai E vai Andiamo subito a bere Casa Teleporta Allora Dammi l'acqua Su 1,2,3,4 1,2,6 3,4 Dove stanno i 3,4? 2 1,2 Bene Oh Bene Torniamo là Oppure bisogno di mangiare Va bene Va bene Va bene Fammelo mangiare un altro po' Poi te lo butto Anche già te lo butto Questo me lo fai mangiare Me lo fai mangiare intero o no? Datemi un'altra roba Oh Sì Gli orange juice Facciamoli di arancia Ragazzi devo fare l'orto Dai Nelle prossime puntate l'orto Perché mi sono rotto le scatole Cioè qua Il cibo rompe le scatole Vai Sbrigate Mi sono rotto le scatole Ok Ok Intanto Con queste Con l'energia lì La farm di mob là Potremo iniziare ad automatizzare un po' di roba Perché la farm di mob ci inizia a produrre un po' di materiali Che ci servono in generale Quindi anche l'ender pearl Anche le carni mart Voi dite che ce ne facciano le carni mart C'è qualcosa Non è che dico che sono utili Però Hanno una loro utilità E non solo Però i mob Ti producono un sacco di roba E Anche I semi I semini Quelli sono importantissimi L'ender pearl Principalmente Quella è una delle cose più importanti Che mi serve Da farmare dai mob E che altro Ci sta tanta altra roba ragazzi Non me la fate dire tutta Perché non mi ha ricordo Allora Qui dentro Ovviamente Lasceremo Tutto buio Quindi Facciamo Così E poi dobbiamo No Dobbiamo metterci le torce Dobbiamo Mettersi le torce Ok Dammi questo Vai 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 Ok Via 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 qua Ragazzi Se non vi va di vedere Sta parte Io non la voglio tagliare E Ci Cioè saltate E andate avanti Perché tanto ora Finisco sta roba E poi Vado a Creare La parte dentro Quindi Ho finito La cobblestone Ma fantastico Ma quanto Sono felice Ma quanto Sono felice Non mi sono bastati Due stack Questo mi dovrebbe bastare Ora Dobbiamo metterci anche No Anziché Metterci le torce Quante slab C'ho Poche Però posso fare le altre Senza che sto a fare Le torce Solo che sta venendo Sera Vabbè Non penso ci siano problemi Fammi salire Veloce Ma chi ci frega Ma chi ci importa Sta venendo Sera Amica E rossa La 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 Metto semplicemente Le torce Sì Ho deciso Mettiamo Mettiamo Le torcelle Non voglio cadere Lì dentro Ok Ma che pizza Ma ditemelo Che mi serviva Un altro stack Allora ne prendo due Andiamo a quel paese Io sono indeciso Se Andiamo a dormire veloce Prima che Ecco Sono spawnati Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Che vi stavo dicendo Io prima che spawnano I knob Sì i knob I newbie Prima che spawnano I newbie Andiamo a dormire Vabbè Vabbè Dove sono spawnati I scheletri Sopra O giù No Sicuramente sopra Sì Vabbè Sì sicuro sopra Vediamo un po' Ah no Qua dentro Vabbè Tu stai lì dentro Ehi Non mi beccare Stai lì Non te muove Ora dovrebbe diventare Qui dentro Tutto rosso Il che ci piace Vai Vedete Sta iniziando già A diventare rosso E significa Che la probabilità Di spawning Dei mob È molto Molto Alta Questo Aumenta La velocità Di spawning Eh sì Vabbè Vai 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 Ok 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 Mettiamo le torce qui sopra Anche se ne ho solo 5 Porca paletta Allora 1 2 3 4 5 Ok Qui Me la son cavata Il problema è che non me la son cavata Ovunque Ok Qui ci devo mettere un'altra torcia E qui un'altra Eh no Ce ne saranno ancora un paio di torce Allora andiamo a fare queste altre torce Anzi ragazzi Le torce Non vi voglio rompere ancora le scatole Andiamo al succo Andiamo al succo Allora In pratica Ora Entriamo lì dentro Cercando di Non farci uccidere Uccidere Ok La mia spada pro Bene In pratica Ora Che cosa dobbiamo andare a fare Dividiamo tutta la sezione Cioè Decidiamo In che zona Vogliamo che spawnino i mob Quindi Li faremo spanare così Così Cioè Facciamo delle piattaforme Di questo tipo Va bene Va bene Va bene Eh Ok Va bene Mettiamo pure questa Va bene Uguale Poi Ok E' questa che non è ben centrata Come mai? Scusa Non ho preso il centro Ah Perché non è proprio asimmetrica Vabbè Chi se ne frega Eh Abbiamo detto così Ok A questo punto Che cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere Cioè Qui Qui poi andrò a togliere Tutta sta roba Andiamo a mettere Tutte Ste No Devo mettere Al contrario Devono andare Verso Il 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 buco centrale Quindi Così Raga Vedete Mi porta Salto di uno Perché poi questo Lo facciamo andare Al centro Ok Ok Anche qui Saltiamo Poi facciamo così Salto di uno Speriamo che mi bastano Si vede raga Sì Vediamo Video setting Oh no Ora sicuramente Vedete meglio Sì Dovresti vedere meglio Quindi Così 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 Qua ci facciamo di nuovo Vai Vai Ok No Questa no Ok Così Ok Ok Benissimo Come vedete Qua è difficilissimo Scappare Allora Facciamo così Così E così Ok Poi Così 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 Vedete È impossibile scappare Quindi i mom Una volta che Spawnano Ed entrano Malauguratamente Per loro In uno di questi binari Sono Fritti 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 con le patate Allora Poi qua Ok Ora Facciamo arrivare Tutto Qui Vai Ok Penso che ci bastino Spero Ok Vedete Non mi fa uscire Non mi fa uscire Sono Indrapulato Sarà difficile Poi togliere Tutta quella Cobblestone Va bene Babine Uno Ecco Vabbè Visto che stiamo Ho capito Fammi togliere La cobblestone Prima Allora Allora Togliamo tutta Sta roba Tanto ormai Abbiamo disegnato Più o meno Dove devono stare Questi Quindi Se può Se può fa No Ok Si L'episodio sta durando Un po' più del previsto Non fa niente Ragazzi Così vediamo bene Vedete come funzionano Che portano tutto Verso il centro Poi faremo una prova Allora E sotto Li attenderà Una bella cosa Spinata Che li farà crepare Vai Tu Expa Piccone Piccone Expa Oh No 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 Così Oh No Vedete Manco mi fa saltare Vabbè Vai Vai Rompi 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 E rompi Ok Via E va Fatica Proprio mo Ti dobbiamo andare a rompere Dai Ma porca Pale Ta ingoronata Della zia Benedetta Abbiamo quasi finito Dai Abbiamo quasi finito L'unica Rottura di scatole Di questi cosi È che veramente È molto difficile Piazzarli Ti snervi A piazzarli Però Una volta fatto Sono molto molto Efficaci Allora abbiamo detto Che qui Dobbiamo Eh dai No Allora lo facciamo qui Così Così Poi Così Va bene Ok A questo punto Dobbiamo far convogliare Verso il centro Quindi io qua farei Qua farei Come farei? Come farei? Farei così 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 Facciamo tipo Cioè li facciamo fare tutto il giro Così 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 Me li Giveo Quelli che utilizzo Poi li vado a craftare Così non devo uscire di qua Se ne è un problema Allora Game Mode Uno Dove sta Cover No Bell Ok Questi qua Allora Contiamo insieme Quanti me ne utilizzo Uno E due No Ho creato un loop Cavolo Cavolo Sono in game Allora Facciamo una cosa Belt Mi tolgo della game mode Se no Faccio casini Ok 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 Poi li craftiamo insieme Ragazzi E li andiamo a togliere Ok Vai Vai Sbrigati 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 Ok Allora Poi Qui che facciamo Facciamo così 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 Oddio Vai 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 Fammi fare il giro Così E così Benissimo Qui dentro poi Che cosa ci andiamo a mettere Ci andiamo a mettere Sta roba qua Molto semplice Questo Ok Quindi loro cadranno E moriranno Oddio Cibo Datemi cibo Datemi cibo Veloce 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 Ragazzi Quanti ne abbiamo usato Ah erano 64 Quindi 12 Più 2 14 Quindi dobbiamo craftarne Praticamente un altro Veloce Fammi mangiare sta roba Allora Si 14 Ehm Allora Voglio chiudere l'episodio Questi li buttiamo Quindi Via Via questi E ne craftiamo Altri Ne craftiamo Altri Allora Mi serve L'albero della gomma Spanato Che fortuna Mi servono Un altro Due di gomma Che li ho prese Si Le bruciamo Che con quella Che abbiamo Più un ferro Abbiamo ripristinato E li buttiamo Quelli Le cover bert Che ci servivano Quindi datemi Un ferro Le due Redstone Ce le abbiamo Della Mamma mia 30 minuti di video Tu brucia qui Brucia Che ti passa Vai Allora Qua mi serve Questo qui Poi mi servono Le 1 e 2 Redstone Gli ossicini Li depositiamo Questi robi Qua li possiamo Anche depositare Ok Allora Vai Il secondo Pronti A posto Ok 1, 2, 3 1 e 2 1 e 2 Ok Quindi game mode E li li diamo Con gli interessi Oh Mannaggia me Li li diamo Con gli interessi Ma si Noi siamo Noi siamo Pro Noi siamo pieni Di materiali Ragazzi Quindi Chi se ne frega Ok Questa roba è fatta Ora Andiamo a mettere Il vacuum hopper Collegato a questo Con le due chest Molto semplice Andiamo Mangiamo Lì starà già Probabilmente Sta già funzionando Allora Oddio Oddio La devo chiudere Prima possibile Ok Scendiamo di qua Vedete? Vedete ragazzi Stanno morendo Fantastico 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 Allora Qua devo sistemare Va bene Qui mancano i vetri Ok Allora Questo lo mettiamo così No mettiamo prima Il tubo Il tubo qua sotto Si Oddio Oh 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 Che cavolo Fatemi Fatemi chiudere Là sopra Un attimo Ok Allora Vacuum hopper Dov'è? No Non mi dire Che l'ho perso No raga Ho perso Il vacuum hopper Oh oh Ma porca Come ho fatto a perderlo Ma non sta qua Allora Metti sto vacuum Fermi eh Madonna ragazzi Mi sto rimbecillendo Mi sto rimbecillendo Qua metti questo Ok Poi Facciamo uscire Da dietro Questa roba qua No da sotto Deve uscire Ok Ok Poi ci mettiamo I tubicini Ok Che mi portano Alle chest E per ora Lo sistemiamo così Qua Fai mettere l'altro tubo Ok Qui devo cambiare Per ora ci mettiamo Una leva Oh Se va bene va Ok Ce l'abbiamo fatta Siamo forti Poi mi dai Un bastoncino Va bene Con cobblestone Ok Vabbè Poi Chiudiamo Chiudiamo Ragazzi Chiudola ben meglio Lo devo terminare Lo terminerò io Qua Distruggiamo tutto E facciamo Morire I nostri mob Ok Guarda Ci voglio mettere Il vetro Detto questo Ragazzi Allora Io mi libero Di un po' di roba Tutta roba Che mi hanno Droppato i mob Aspettiamo Che funzioni So che è durato Molto questo episodio Ma l'ho voluto Finire insieme a voi Per farvi vedere Tutte le dinamiche Per il settaggio Eccetera Ci vediamo nel prossimo episodio E vi ricordo Che siamo presenti Su facebook Google Plus Google Plus Quasi tutti i giorni Ci trovate su TS E per divertirvi con noi Mi sposto dal blocco Venite a trovarci Sul Mondo Town Per oggi Per questo episodio È tutto Ci vediamo nel prossimo episodio Dove suppongo Che faremo O la farm Di alberi O il cibo Ciao belli Ciao belli